vale la pena leggere scoprire o riscoprire libri importanti anche se non sono delle novità importante che siano anche sedimentati è il caso dei romanzi di john maxwell cutesy lui si firma gm cutesy io qui raccomando uno dei suoi romanzi tempo d'estate scene di vita di provincia edito come tutti i romanzi di cutesy da einaudi cutesy ha superato di poco gli 80 anni nel 2003 ha vinto il premio nobel per la letteratura lui è un sudafricano un africaner bianco del sudafrica che oggi vive in australia questo romanzo si svolge in sudafrica nei suoi romanzi lui è molto intenso immaginoso anche difficile complesso ogni volta cambia invenzioni e scenari qui lui immagina una cosa sorprendente di essere già morto cioè lui cutesy è già morto lo scrittore cutesy è morto e uno studioso di letteratura vuole ricostruire la sua vita però mettendo mano i suoi diari e i suoi appunti non riesce a percepire la verità vera perché uno scrittore si camuffa sempre dietro l'immaginazione dei romanzi ma anche dietro le sue lettere i suoi diari che sa che saranno letti e allora lui cosa fa lo studioso va a cercare alcune donne quattro che hanno avuto a che fare con cutesy nella vita nella mezza età di cutesy perché poi è morto lui pensa di poter dire di essere morto intanto scrive questo un po gioco letterario e queste donne raccontano quello che loro pensano che hanno vissuto con lui e però anche loro sono soggettive perché quando uno viene richiesto di dare informazioni su pezzi della propria vita e su qualcuno poi parla di se stesso e quindi il loro punto di vista è anch'esso chissà forse fuorviante questo artificio permette di narrare un pezzo di vita di un uomo un intellettuale uno scrittore disadattato un po fragile un po goffo mal giudicato quasi sempre mal giudicato dalle sue donne c'è molta autoironia e ci sono molte riflessioni a fondi di pensiero e per esempio quando si tratta di dire perché i libri devono essere fatti e letti cutesy dice a una sua amica che i libri sono un tentativo di fermare il tempo di congelarlo un tentativo di immortalità insomma la letteratura servirebbe a togliere il dramma del tempo che se ne va per sempre ma è soltanto una citazione la scrittura è molto forte come sempre in cursi spiazzante avvincente qui dentro c'è la vita vera di un uomo creata e ricreata attraverso l'artificio della ricerca di notizie sulla morte di quest'uomo che per fortuna invece è vivo e scrive di se stesso